Nella magnifica selva nera della Germania vivevano due adolescenti avventurosi di nome Matteo e Giulia. Entrambi erano grandi amici e amanti della natura, desiderossi di esplorare ogni angolo misterioso di quel luogo incantato. Una fresca mattina di primavera, Matteo e Giulia decisero di intraprendere un viaggio emozionante attraverso la selva nera. Equipaggiati con zaini pieni di provviste e mappe dettagliate, si incamminarono lungo un sentiero antico, circondato da alberi maestosi. Mentre avanzavano tra la vegetazione lussureggiante, i due amici si trovarono di fronte a un bivio. La mappa indicava che il sentiero di sinistra portava a una cascata segreta, mentre quello di destra conduceva a una grotta misteriosa. Affascinati dall'incertezza dell'avventura, decisero di dividere i loro percorsi. Matteo si diresse verso la cascata, il suono fragoroso dell'acqua che cadeva lo guidava. Attraversò ruscelli scintillanti e percorsi tortuosi fino a raggiungere un magnifico scenario. Una cascata imponente si ergeva davanti a lui, creando un arcobaleno di colori nella luce del sole. Fascinato dalla sua bellezza, si sedette vicino al fiume e si prese un momento per immergersi completamente nella natura. Nel frattempo, Giulia si avventurò nella grotta misteriosa. Mentre entrava nel buio, una sensazione di eccitazione e timore la pervase. Si avventurò in profondità, illuminando il suo cammino con una torcia. Le pareti della grotta sembravano parlare, coperte da affascinanti dipinti rupestri e stalattiti che sembravano gocce di cristallo. Dopo un po', Matteo e Giulia si ritrovarono e si scambiarono le loro avventure. Decisero quindi di proseguire insieme, esplorando insieme la selva nera. Durante il loro cammino, si imbatterono in una tribù di elfi che viveva nascosta tra gli alberi. Gli elfi, con i loro vestiti colorati e le loro abilità magiche, li accolsero calorosamente. Matteo e Giulia divennero rapidamente amici degli elfi, che li guidarono in un viaggio ancora più straordinario. Gli elfi rivelarono ai due adolescenti l'esistenza di una sorgente magica che poteva donare poteri straordinari a chi ne beveva l'acqua. Decisi a scoprire la sorgente, Matteo e Giulia accettarono la sfida che gli elfi avevano loro proposto. I giovani amici si avventurarono attraverso sentieri intricati e attraversarono fiumi impetuosi, fino a quando finalmente trovarono la sorgente magica. Inginocchiati di fronte ad essa, raccolsero l'acqua in piccole bottiglie. Ma appena stavano per bere l'acqua magica, furono fermati da un vecchio saggio. L'uomo, che sembrava provenire direttamente dalle leggende della selva nera, spiegò loro che i poteri magici sarebbero stati solo temporanei. Li ammonì a usare i poteri con saggezza e responsabilità. Matteo e Giulia ascoltarono con attenzione le parole del saggio e decisero di non bere l'acqua magica. Si resero conto che l'avventura stessa era già un tesoro inestimabile, che gli aveva cambiati e insegnato tanto. Ritornarono quindi a casa, portando con sé ricordi indelebili della selva nera e l'amicizia profonda che li aveva uniti ancora di più. Promisero di continuare ad esplorare il mondo insieme, affrontando nuove avventure e imparando sempre di più sulla bellezza della vita. E così, con il cuore pieno di gratitudine e un senso di scoperta, Matteo e Giulia continuarono la loro straordinaria storia, pronti a intraprendere nuovi viaggi e a creare nuovi ricordi indimenticabili. Mentre Matteo e Giulia si preparavano per la prossima avventura, un'inquietante notizia giunse loro. La selva nera stava affrontando una grave minaccia, un'organizzazione segreta che cercava di sfruttare i poteri magici della sorgente per scopi malvagi. Decisi a proteggere la selva nera e le sue meraviglie, Matteo e Giulia si unirono a una squadra di difensori della natura, composta da elfi, creature magiche e altri coraggiosi avventurieri. Insieme, si addestrarono duramente per affrontare l'organizzazione e fermare i loro loschi piani. Le indagini portarono il gruppo in una remota roccaforte nascosta nel cuore della selva nera. Affrontarono pericolosi ostacoli e combatterono con coraggio contro le guardie dell'organizzazione. Ma, mentre si avvicinavano al covo del loro nemico, si resero conto che c'era un traditore nel loro stesso gruppo. L'antica profezia della selva nera parlava di un traditore che avrebbe cercato di usare i poteri magici per il proprio vantaggio personale. Il gruppo si trovò di fronte a una scelta difficile, smascherare il traditore e rischiare la propria sicurezza, o procedere con cautela e rischiare di fallire nella loro missione. Matteo e Giulia, con il loro intuito acuto e la fiducia reciproca, decisero di rivelare l'identità del traditore. Scoprire che era uno dei loro compagni di squadra fu un colpo duro, ma non si arresero. Non potevano permettere che la malvagia organizzazione mettesse le mani sui poteri magici e distruggesse la selva nera. Con l'aiuto degli elfi e delle creature magiche, Matteo e Giulia misero in atto un piano audace per intrappolare il traditore e sventare i piani dell'organizzazione. Combatterono una battaglia epica, usando la loro intelligenza e la forza interiore. Alla fine, riuscirono a sconfiggere il traditore e a neutralizzare l'organizzazione. La selva nera fu salvata e il potere della sorgente magica fu preservato. Matteo e Giulia vennero acclamati come eroi, rispettati per il loro coraggio e la loro dedizione. Ma la loro avventura non finì qui. Con il traditore sconfitto, la selva nera poté ritornare alla sua pace e bellezza. Matteo e Giulia, più forti e saggi grazie alle loro esperienze, decisero di dedicare le loro vite alla protezione dell'ambiente e alla difesa delle meraviglie naturali del mondo. Continuarono a viaggiare insieme, affrontando nuove sfide e diffondendo un messaggio di amore per la natura. La loro storia si diffuse in tutto il mondo, ispirando altre persone a seguire il loro esempio e a prendersi cura del pianeta. Matteo e Giulia, due adolescenti che erano partiti alla scoperta della selva nera, si erano trasformati in veri eroi, portatori di speranza e cambiamento. La loro avventura rimase nella storia come un esempio di coraggio, amicizia e dedizione per le generazioni future. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.